Benvenute e benvenuti, io sono Luciano Antezza e vi condurrò alla scoperta di una straordinaria ed emozionante esperienza di apprendimento. Un titolo, Esplorare le emozioni con la creatività. Tre laboratori in tre plessi differenti, dodici insegnanti, cinque classi, 75 ragazzi coinvolti ognuno con le proprie specifiche abilità. Nell'anno scolastico 2023-2024, su proposta della Cooperativa Sociale Auxilium, erogatrice del servizio di assistenza personalizzato in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine del Comune di Matera, la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Donato Bramante ha deciso di avviare tre laboratori esperienziali. Un laboratorio dove le emozioni hanno incontrato la creatività. La dimensione laboratoriale data all'esperienza ha consentito l'utilizzo di un approccio in grado di emulare un vero e proprio laboratorio, in quanto, se pensiamo ad un laboratorio di fisica o di chimica, ci troveremo in un contesto appositamente strutturato per lo scopo specifico. Al suo interno avremo a disposizione tanti strumenti, tante sostanze ed elementi e tante tecniche connesse al loro utilizzo, che di volta in volta, in base alle necessità richieste dall'esperimento, se ne utilizzeranno alcune piuttosto che altre. A disposizione dei nostri laboratori, appunto, abbiamo potuto contare, materialmente, su aule e palestre, sulla gentile collaborazione del personale dei collaboratori scolastici e su attrezzature di vario tipo. Sul piano fantasmatico, invece, uno spazio di lavoro costituito da due macro aree, quella emozionale e quella creativa, collegate da un corridoio ampio e decorato, denominato corridoio delle sensazioni, dove hanno soffiato forte i venti dell'integrazione e i venti dell'inclusione, dove tutti ci siamo incontrati spessissimo e dove abbiamo visto un gran via vai per portare un po' di colore, per portare un po' di talore, momenti di gioco, di divertimento e di grande significatività. A illuminare gli ambienti, la giusta dose di teoria per consentire l'agevole percezione emotiva, il giusto utilizzo della creatività a disposizione dei nostri piccoli sperimentatori. Un laboratorio dove le emozioni hanno incontrato la creatività, le emozioni, che qui possiamo definire come sensazioni capaci di coinvolgere tutti i livelli percettivi rispondenti a meccanismi automatici appresi e sedimentati nel tempo della nostra esperienza. Molto spesso possono e riescono ad armonizzarsi con la creatività, una dimensione appartenente a tutte le persone, intesa come grande sintesi motivazionale, capace di offrire soluzioni, proporre invenzioni, indicare via d'uscita e trasformare emozioni. Le parole aumentare, superare e favorire sono diventate magicamente delle pedane su cui salire per raggiungere i banchi di lavoro utili ad aumentare la fiducia in se stessi, superare paure e reticenze e favorire la conoscenza di sé. Sulle mura, quadri e murales dipinti dei nostri maestri. Goleman, Meyer, Taylor, De Bono, Guilford, Vigoschi e Rizzolati, Rogers e Piaget, La Fontaine. Nei nostri laboratori abbiamo steso il tappeto del Circle Time, una tecnica capace di consentire a tutti sempre una buona andatura sul terreno emotivo proprio e di quello degli altri, una tecnica in grado di agevolare la partecipazione massima o quella desiderata da ogni partecipante, agevolando sempre, con un clima di classe favorevole, la predisposizione di ognuno a cimentarsi con gli esperimenti creativi proposti. Le sostanze da noi maggiormente utilizzate e messe nelle provette sono state la musica ascoltata e cantata, il ballo, l'improvvisazione, gli esperimenti creativi, i giochi espressivi e quelli immersivi. Le emozioni le abbiamo elencate, descritte, esplorate, raccontate e provate, giocando anche con le facce, le tensioni e i rilassamenti muscolari che le contraddistinguono. Ora diamo la parola agli insegnanti. Bene, abbiamo appena finito l'ultimo appuntamento del nostro laboratorio delle emozioni e della cadività e a caldo andiamo a cogliere delle impressioni della docente di sostegno Grazia Cusciagna. Sì, allora, questo laboratorio a cui ho partecipato e guidato insieme a Luciano Antezza penso che abbia insegnato ai ragazzi l'importanza delle emozioni. In un secondo step abbiamo visto la necessità anche di riconoscere delle emozioni perché ciascuno di noi le esprime in maniera diversa. Quindi il concetto di creatività è legato proprio a una prima porta di apertura verso l'accettazione della diversità. Ma step fondamentale e conclusivo è stato proprio l'emozione e la creatività come confronto di se stessi con l'altro e quindi ha avuto come obiettivo il potenziamento di accettazione della diversità e un chiaro sviluppo di un'abilità delicatissima per l'intelligenza emotiva qual è l'empatia. A riguardo io ringrazio il nostro don Ricciano che è stato veramente di una delicatezza non ordinaria e soprattutto ha spiegato e implementato questo laboratorio costruendolo sull'utenza. Verissimo, verissimo. No, sono io che ringrazio te. Bene, adesso ascoltiamo un contributo della insegnante Maria Nicola Stella Funzione Strumentale di Sostegno. Allora, innanzitutto penso sia doveroso ringraziare la cooperativa del dottor Luciano Andezza che ci hanno permesso di portare avanti questo laboratorio all'insegna della creatività ma anche della dimensione affettivo-relazionale degli alunni che vi hanno preso parte. Del resto, oggi come oggi, sappiamo tutti quanto sia importante favorire uno sviluppo armonico proprio della sfera affettiva del nazionale creativa e di quella che definiamo intelligenza emotiva per affrontare la complessità con cui ogni giorno dobbiamo misurarci. E aggiungo che i bambini hanno partecipato in maniera molto davvero creativa e hanno imparato a conoscere le loro emozioni ma soprattutto la parte più interessante del laboratorio è stata da parte dei bambini la comunicazione di quello che una particolare emozione ha suscitato sul loro corpo. Vi assicuro che è stato davvero molto interessante. Grazie a tutti. Grazie a te, Maria. L'insegnante Anna Chiara Andrisani ci ringrazia e scrive che il laboratorio è servito a promuovere flessibilità didattica con un modello di apprendimento attivo e personalizzato amplificando la collaborazione senza mai limitare l'autonomia. Si è dato spazio alla creatività alla libertà espressiva quindi alla libera espressione delle emozioni. I bambini spesso hanno approfondito anche in classe creando occasioni di confronto su quanto appreso durante il laboratorio. Ascoltiamo il contributo dell'insegnante di sostegno Paola De Caro. Grazie al maestro per avermi dato la possibilità di esprimere un mio pensiero riguardo il progetto che è stato fatto. Innanzitutto un progetto che ha permesso loro di socializzare anche con bambini di altre classi quindi socializzare che significa confrontarsi e poi questo progetto ha portato loro la possibilità di esprimere senza alcuna inibizione le loro emozioni. Un'emozione che è stata espressa in maniera spontanea senza la paura senza quell'ansia che spesso il bambino ha soprattutto quando si trova all'interno di un ambiente scolastico di essere giudicato da un adulto di avere il voto invece questa volta il bambino era libero quindi sapeva di poter esprimere un'emozione che poteva essere un'emozione positiva che poteva essere un'emozione negativa e questo ritengo che per la loro età sia qualcosa di importante perché gli aiuterà sicuramente anche nel futuro a non aver paura a dire quello che provano. Ora ascoltiamo il contributo da parte dell'insegnante Nunzia Alba in rappresentanza della dirigenza scolastica dell'Istituto 6 Donato Bramante di Matera Un laboratorio che è stato vissuto appieno con una partecipazione entusiasta assidua e curiosa da parte di tutti i bambini e i ragazzi partecipanti che ci ha consentito di andare oltre la routine propria della quotidianità scolastica dove abbiamo visto i ragazzi sotto una luce diversa e abbiamo potuto ampliare la nostra proposta formativa e praticamente tutte le attività proposte ci hanno consentito di vedere i ragazzi diversi da come li vediamo in ambiente scolastico quindi un laboratorio utile alla crescita e alla conoscenza dei partecipanti che spero possa essere ripetuto negli anni come progetto sento di ringraziare il dottor Luciano Antezza per aver ideato questo progetto per aver condotto in maniera eccellente questa attività laboratoriale dando la possibilità ai ragazzi che hanno partecipato di divertirsi di rilassarsi è veramente un'iniziativa meritevole grazie dottor Luciano nel ringraziarvi per la gentile attenzione riservata ci avviamo alla chiusura salutandovi con una risentirci e con la lettura di un aforisma di un grande scrittore e docente francese ogni studente suona il suo strumento non c'è niente da fare la cosa difficile è conoscere bene i musicisti e trovare l'armonia una buona classe non è un reggimento che marcia al passo è un'orchestra che prova la stessa sinfonia Daniel Pennac un abbraccio a voi e un abbraccio ai partecipanti un sentito grazie a tutti grazie a tutti